Salve a tutti, benvenuti alla quotidiana Rassegna Stampa che realizzo insieme alla mia collega Paola Pentimella Testa. Oggi il 21 noembre si parlerà di Ebbe De Bonafini, la cofondatrice delle madri di Piazza De Maio in Argentina, dei due attentati in Israele, del Qatar, ma non dei mondiali, ma del gas e poi del congresso sulla pandemia poli Covid-19 si sta svolgendo a Torino. Prima notizia, per pochissimi giorni il Ebbe De Bonafini non festeggia il 94esimo compleanno che sarebbe stato. Il 4 dicembre la cofondatrice delle madri di Piazza De Maio è morta domenica all'ospedale italiano di La Plata, dove era ricoverata. Che cosa sono le madri di La Plata De Maio? Sono le madri e le nonne di persone che sono sparite, disparcidos, durante la dittatura che c'è stata in Argentina tra il 1976 e il 1983. Oltre 30 mila persone sparirono nel nulla perché furono sequestrate, torturate, uccise e in molti casi gettate ancora vive dagli aerei nell'oceano arlantico. Per non parlare di tantissime altre persone perseguitate e di oltre 500 figli spariti, bambini spariti, erano figli di donne che facevano parte dell'opposizione al regime, che sono stati sottratti a queste donne e affidati da delle famiglie benestanti argentine, per non parlare degli oltre 2 milioni di attivisti politici che sono stati costretti all'esilio. Bene, Ebede Bonafini un bel giorno vide sparire i suoi due figli, Orghe Omar e Raul Alfredo e la sua nuora e allora trasformò, decide trasformare la sua sofferenza in una lotta nei confronti ai diritti umani e della giustizia sociale, per il rispetto ai diritti umani e della giustizia sociale. Tutti i giorni le madri della Plaza de Mayo si incontravano davanti all'obelisco che si trova di fronte alla Casa Rosada, cioè al palazzo presidenziale di Buenos Aires, lei e altre 13 madri, per protestare in maniera silenziosa, non in maniera chiestosa, in maniera silenziosa e non se ne andarono più da quella piazza. Quel movimento è stato qualcosa di epocale, ha scosso l'opinione pubblica mondiale, ha permesso di tenere viva la memoria di tantissime persone sparite a causa di quella dittatura, frutto di un colpo di Stato voluto agli Stati Uniti d'America. Da Bonafini, che si è fatta portavoce di quel movimento, è stata sempre una politica estremista, nel senso che era una marxista, antiamericana, successivamente è stata molto vicina al clan Kirchner, che ha prodotto la presidenza di Nestor Kirchner dal 2003 al 2007 e anche quella di Cristina Kirchner, sua moglie, dal 2007 al 2015. Attualmente Cristina Kirchner è vicepresidente. Il Hebe de Bonafini è stato veramente un simbolo per l'Argentina, tanto che il governo oggi ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale. Notizia numero due. Sono esplose due bombe nei pressi di Fermata e gli autobus a Gerusalemme, nel quartiere Ramò. Questo quartiere è un quartiere dove vivono i fondamentalisti ebrei, gli ortodossi, gli ebrei ortodossi. Gerusalemme è popolata per buona parte da ebrei ortodossi, che sono quartieri dove se non sei un ebreo ortodosso proprio non puoi entrare e se ti vedono che magari una macchina fotografica ti menano pure direttamente, ti prendono a stassate. Non sono quartiere tanto belli dove passare, non vi consiglio di andarle a visitare se ci tenete alla vostra, a uscirne indenni diciamo, nel caso in cui andassi a Gerusalemme. Fatto sta che queste due esplosioni, avvenute una presso all'altra, hanno provocato, soprattutto la prima, perché la seconda per fortuna non ha provocato feriti gravi, la prima ha provocato la morte di uno studente di 16 anni che aveva la cittadinanza canadese e appunto risiedeva in un altro quartiere di Harnoff, anche questo a maggioranza di ebrei ortodossi e che frequentava una scuola dove si studiava la Torah, la Torah e il Talmud, quindi una scuola diciamo ebraica, religiosa. In più tra i feriti ci sono stati 31 feriti, c'è la figlia dell'editorista del Jerusalem Post, Uri Bericiovski. Allora, Israele ovviamente, il governo israeliano ovviamente ha accusato i palestinesi, dei gruppi palestinesi per provocare gli attentati, in realtà non esistono al momento dati ufficiali che possono dire, perché anche nessuno ha rivendicato questi attentati che possono dire chi è stato, pare si siano stati arrestati 3 palestinesi, perché questo ordigno, specialmente il primo che stava all'interno di uno zaino lasciato appunto in costituzione alla fermata dell'autobus era pieno di chiodi. Il punto è uno, non è che non, come ho detto poco fa, non si sa ancora nulla, però sono stati già accusati i palestinesi. Da poco in Israele è tornato un governo, quello Netanyahu, che è un governo ultra, ultra, ultra fondamentalista, diciamo è quasi come se fosse il corrispettivo di Al-Qaeda, però dentro il mondo ebraico. Netanyahu in passato si è dimostrato spregiudicato a, ha compiuto, ha fatto compiere i propri servizi segreti, attentati spaventosi anche contro i cittadini israeliani e quindi non, visto che lui vorrebbe riaccendere la miccia, rialzare lo scontro con i palestinesi, insomma non aspetta altro, non escludo, non escludo, ovviamente non posso che fare supposizioni che siano stati i servizi israeliani a compiere l'attentato e non i palestinesi. Notizia numero 3, c'è stato un accordo tra il Qatar e la Cina, il più grande accordo mai registrato per il gas. La Qatar Energy ha siglato questo accordo con l'azienda cinese Sinopec Gas. Prevede una fornitura di gas liquefatto per 27 anni per un quantitativo complessivo di 4 milioni di tonnellate. Questo gas proverrà dal Northfield, che è il giacimento, l'enorme giacimento il più grande del mondo che il Qatar condivide con l'Iran. E come vedete anche il Qatar si sta spostando dal lato Cina-Russia. Quarta notizia, allora a Torino si sta svolgendo il congresso sulla pandemia poli-Covid-22 e in realtà erano 5 giorni di confronto, per essere un confronto costruttivo per capire come è stata affrontata la crisi pandemica da tutti i punti di vista sociale, politico, economico e anche sanitario. Erano stati invitati veramente scienziati di altissimo livello e tra cui anche membri dell'Istituto Superiore di Sanità e del Comitato Tecnico Scientifico. Ma due settimane fa sia i membri dell'Istituto Superiore di Sanità che del Comitato Tecnico Scientifico hanno dato forfè, perché secondo loro c'erano degli scienziati che molto sinteticamente loro definivano Novax e che non erano in grado di discutere di questi temi. In seguito a questo forfè il Rettore, il 16 novembre, quindi a 5 giorni dall'inizio del congresso, ha deciso di revocare il patrocinio inizialmente concesso e quindi ha costretto gli organizzatori a trovare una sede così al volo. Va detto che anche l'Agenzia Italiana del Farmaco si è rifiutata di presentarsi. Insomma, fatto sta che il membro del Comitato Scientifico di questo congresso, Marina Pastorelli, ha parlato di bocottaggio pienamente riuscito e ha sottolineato come il confronto sia stato negato e il dialogo, quello di cui il Paese oggi ha disperato bisogno, sottratto. Fatto sta che comunque a questo congresso stanno partecipando, hanno partecipato scienziati e studiosi di fama mondiale, tra cui i professori John Ioannidis, Peter Doshi, Tom Jefferson e Sunetra Gupta, che hanno accettato l'invito e si sono presentati. Insomma, è un congresso estremamente interessante, se siete a Torino vi invito a partecipare fino a venerdì 25, durerà. In questo congresso ovviamente si affrontano le conseguenze sociali e le misure adottate per contrastare il Covid, ma anche l'efficacia degli effetti e gli effetti avversi di breve e medio-lungo termine della vaccinazione, non che le terapie domiciliari. Insomma, si parla di tantissime cose, se siete a Torino o anche nelle vicinanze, andate a seguirlo, vale la pena, perché è molto, molto, molto interessante. E poi non fosse altro perché è stato boicottato, vale la pena di andarlo a partecipare, andare ad ascoltare. La scorsa settimana si è concluso il vertice G20 a Bali. Va premesso questo, i vertici internazionali come il G7, il G20 e così via, non hanno, non possono stabilire, come dire, delle regole universalmente riconosciute, perché non sono vertici ufficiali, sono luoghi semplicemente dove si incontrano i capi di Stato e di Governo, i ministri degli esteri e altri ministri vari, insomma dei paesi aderenti a quella riunione, né più né meno. Quindi questa è la premessa ed è importante perché ciò che vi sto per dire non è ufficiale, anche se ovviamente il, diciamo, l'indirizzo non è esattamente bello. Allora, al termine del vertice è stato, come in tutti questi vertici, è stato, è stata prodotto una risoluzione finale. E in questa risoluzione finale a un certo punto si legge, riconosciamo l'importanza di standard tecnici e metodi di verifica condivisi nel quadro dell'IHR per facilitare i viaggi internazionali senza soluzioni di continuità, l'interoperabilità e il riconoscimento di soluzioni digitali e soluzioni non digitali, compresa la prova delle vaccinazioni. Sosteniamo il dialogo e la collaborazione, compresa la prova delle vaccinazioni. Sosteniamo il dialogo e la collaborazione internazionale e continui sulla creazione di reti sanitarie digitali globali, affidabili come parte degli sforzi per rafforzare la prevenzione e la risposta a future pandemie, che dovrebbero capitalizzare e basarsi sul successo degli standard esistenti e dei certificati digitali Covid-19. Questo è il punto 23 della dichiarazione finale del G20 tenutosi a Bali in Indonesia, che è stato sottoscritto a tutti e 20 paesi. L'Italia ovviamente era compresa tra questi paesi. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che lo spiega bene che cosa vuol dire il ministro della salute indonesiano Budi Gunadi Sadikin, che è quello che ha proposto di inserire questo punto nella risoluzione finale, perché è quello che ha affrontato il problema, e lui ha riasciato una dichiarazione nella quale dice I paesi del G20 hanno concordato questo certificato digitale utilizzando lo standard dell'OMS e lo presenteremo alla prossima Assemblea Mondiale della Sanità a Ginevra come revisione della normativa sanitaria internazionale. In questo modo, per la prossima pandemia, invece di bloccare la circolazione delle persone al 100%, si potrà garantire una certa circolazione delle persone. In altri termini, il famigerato Green Pass, se la cosa passerà, al momento è solo un'idea, ma bisognerà presentarla all'Assemblea Mondiale della Sanità a Ginevra e poi l'OMS dovrà varare questa cosa e gli stati ovviamente sottoscriverla, perché ci sono tutta una serie di passaggi. Se questa cosa diventerà, diciamo, norma internazionale, il Green Pass sarà la condizione per viaggiare in alcune situazioni, almeno così hanno detto. Però, come sappiamo bene, una volta che una cosa è introdotta, poi difficilmente viene tolta, se fa comodo al potere. Allora, questa cosa è anche rientrata in un altro documento, ovvero le raccomandazioni politiche ufficiali del B20 al G20, ovvero dei paesi, anzi dei ministri della Sanità, che si sono rivolte al G20, ovvero non dei governi, ma solamente dei ministri della Sanità, che poi più o meno è la stessa cosa. Nel comunicato finale, a pagina 132, si legge che i paesi membri dovrebbero promuovere ulteriori scambi e l'uso strategico e la condivisione di scienza, tecnologie e dati appropriati per l'individuazione delle crisi, creando un quadro di coordinamento globale per la mitigazione delle crisi future. Diciamo, non si parla di Green Pass, in questo caso si parla semplicemente di collaborazione tra stati quando ci sono delle crisi sanitarie, la cosa ha anche una sua logica. Il punto è che, diciamo, la politica sanitaria che è stata condotta durante la pandemia, e vorrei ricordare l'Italia è stata capofila di questa politica, perché hanno preso spunto tutti gli altri paesi dall'Italia, Green Pass compreso, questa politica sanitaria è piaciuta tanto e rischiamo di ritrovarci sul gruppone. Per sempre. Rivedisco, non è stata presa nessuna decisione definitiva, ci vorrà del tempo, però questo sembra l'indirizzo. Il punto che il nostro governo, il governo Meloni, ha sottoscritto questo documento.